Oggi è un periodo secondo me particolarmente fertile perché stiamo alla ricerca di un sistema di sviluppo umano, culturale, sociale alternativo. 12 gruppi di lavoro tematici per raccogliere osservazioni e proposte in materia di occupazione e crescita economica. Così gli associati ACLI sono stati i protagonisti del 47esimo incontro nazionale di studi ospitato a Cortona dal 18 al 20 settembre. Una giornata del Maxi Event è stata infatti dedicata ai laboratori multitasking dove si è parlato di conciliazione, giovani, internet e nuove tecnologie per le politiche sul lavoro. A una mamma giovane direi che si deve concedere il part time per avere la possibilità di accudire i figli e la famiglia e poi andando avanti che la donna possa anche realizzarsi in un tempo pieno. È inutile dire che la Laura non serve a nulla, che secondo me servirà sempre, magari un po' più in là. Una prospettiva importante è l'estero, anche se non tutti si possono permettere l'estero perché comunque c'è chi ha una famiglia, chi ha una madre da sola, non tutti possono permettersi di riprendere e partire. Dobbiamo ancora fare tanto mettendo in rete non solo tanti giovani che stanno cercando lavoro ma anche magari persone più la con l'età che hanno perso il lavoro. Quindi può essere uno strumento, penso al LinkedIn. Gianni Bottalico, presidente nazionale delle ACLI, spiega come le proposte raccolte nei workshop saranno utilizzate. All'indomani di queste giornate, come abbiamo sempre fatto, rileggeremo la nostra linea politica, rivedremo le nostre azioni, rivedremo le nostre proposte concrete e sulla base di questo coerentemente colloqueremo col governo.